Allora, quello è Napoleone, che sta mangiando la papa. Questo è giatto, sta guardando gli stracci da poter rubare, un altro po' di papara, ecco, quanto non va bene, quella signorina lì che mi sta mangiando i pantaloni è la Frida, e questa che corre la famiglia, opla, la Frida si avventa sui miei pantaloni, giottolino, oppi, ecco l'altro, Napoleone che si butta sulla pallina, arriva Camilla, i miei pantaloni sono molto meglio, vero amore, sicuro. Ciao, bimba, hapla.